di Al Jazeera English andati in onda il 2 novembre scorso. Il giornalista è Sir David Frost, colonna della BBC, famoso da oltre 40 anni proprio per le sue interviste. Dopo circa 6 minuti, Frost chiede a Benazir Bhutto della lettera inviata al presidente Musharraf prima di ritornare in Pakistan. La Bhutto è appena scampata a un attentato ed elenca i suoi nemici, tra questi un ufficiale dei servizi segreti che ha avuto rapporti con Omar Sheikh. L'uomo, dice la Bhutto, che ha assassinato Osama Bin Laden. Grazie. 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 Grazie.